un uomo molto ricco fece un banchetto e così chiese ai suoi servi di andare a chiamare i suoi amici per partecipare al banchetto ma uno degli amici disse che aveva preso da poco un campo e che voleva solvergliarlo un altro gli disse che aveva delle coppie di buoi a cui star dietro un altro gli ricordò che si era sposato da poco e quindi preferiva non partecipare l'uomo ricco rimase molto male ma mandò ancora i suoi servi in giro a invitare chiunque avrebbero incontrato lungo la strada i crocicchi e così ben presto la casa di quell'uomo ricco si riempì di persone che non erano suoi amici ma quel giorno lo diventarono perché avevano accolto l'invito al banchetto grazie a tutti grazie a tutti